In base ai dati continuamente forniti dall'autorità sanitaria e dell'approvata del servizio statistica del Comune, di intesa col Comitato Ordine di Sicurezza Pubblica, ho disposto la chiusura dei mercatini rionali per una settimana nella zona della settima circoscrizione, raccogliendo non soltanto i dati dell'ASP ma anche l'allarme che viene dagli abitanti dell'Arenella, di Sferacavallo, di Mondello, dello Zen, di Partanna Mondello e da questo punto di vista questo divieto si accompagna ad un'ordinanza che vieta la vendita di alcolici dopo le 18 fino alle 5 del mattino in tutta la città, è un modo anche questo per frenare la crescita di contagi e per evitare i picchi che si registrano in altre parti d'Italia. La massima prudenza e ancora una volta l'invito che rivolgo a tutti.